Indignados senza confini. La protesta contro il sistema politico-economico nata col Movimento Spagnolo del 15 maggio ha cominciato una marcia che dalla Puerta del Sol di Madrid porterà migliaia di persone fino al cuore dell'Europa a Bruxelles. Domenica, poco più di due mesi dall'avvio della protesta, migliaia di persone erano tornate a manifestare a Madrid.